ciao a tutti allora oggi vorrei farvi vedere come ho realizzato questo bel bordino all'uncinetto io ho realizzato due righe volendo si può anche proseguire quindi farlo anche più largo di così però insomma è giusto per darvi un'idea del disegno lo dirò anche nel tutorial ma lo voglio ripetere anche adesso inizio video se vi rendete conto mentre lavorate che il bordo non rimane bello dritto steso ma piega un po vedete che anche il mio un po curva cambiate uncinetto prendetene uno un pochino più grosso oppure un'altra cosa che nel caso potreste fare è distanziare un pochino di più le noccioline quindi lasciando una maglia tra l'una e l'altra rendendo meno compatto il bordo ma secondo me già cambiando uncinetto dovreste risolvere il problema a me non interessava perché comunque il disegno si vede benissimo in ogni caso è solo un consiglio che vi do perché so già che riceverò delle domande del tipo ma mi si piega non rimane dritto come posso fare quindi questo è il mio consiglio ok direi che possiamo iniziare subito vi faccio vedere come si realizza vedrete che è molto molto facile iniziamo allora fate conto che questo sia il lavoro a cui voglio applicare questo bordino è indifferente che cosa state facendo io ho avviato un po di maglie alte per avere un brodino più alto però appunto è indifferente riprendo il mio filo lavoro 3 catenelle 1 2 3 quindi giro al lavoro e posso iniziare la riga del mio bordo allora vado a lavorare una maglia alta non nella prima maglia ma nella seconda ok quindi non nella prima ma sotto alla seconda maglia lavoro una maglia alta quindi una catenella poi lasciamo sempre morbido il nostro cappio non stringiamo troppo prendiamo sul filo passiamo sotto alla prima maglia quella che abbiamo saltato poco fa passiamo sotto e facciamo passare il filo all'interno di quella maglia tiriamo bene perché se bella larga di nuovo una seconda volta prendiamo sul filo passiamo sotto alla prima maglia che è qui capisco che si vede a poco ma insomma passate sotto alla prima maglia che tirate sempre bene il filo una terza volta raccolgo il filo passo sempre cerco di avvicinarmi sotto alla prima maglia dentro insomma faccio passare il filo lo faccio altre due volte quindi prendo il filo passo sempre sotto qui faccio passare dentro il filo lo faccio un'altra volta fatto una quinta volta prendo il filo faccio passare sotto tutti questi così a questo punto vado a lavorare una maglia alta non nella maglia successiva che è questa vedete qui c'è la prima maglia dove ho fatto tutto questo lavoro qui la seconda maglia dove avevo lavorato la maglia alta terza maglia quarta maglia adesso andiamo a lavorare in queste due e andiamo a fare appunto una maglia alta in quella che è la quarta maglia quindi se ne salta sempre una e si entra in quella dopo e si lavora appunto una maglia alta catenella quindi rifacciamo tutta questa lavorazione siamo sempre un po larvi prendiamo il filo passiamo nella maglia precedente quella che abbiamo saltato portiamo dentro il filo 1 terremo bene di nuovo tiriamo 2 3 lo faccio altre due volte quindi prendo un filo lo faccio passare sotto a tutti questi ok sono andata un po avanti adesso ve ne faccio vedere un altro poi viene farò vedere anche nel giro successivo vi volevo dire se rischiate a me sta un po succedendo che il lavoro si stringa vedete che si sta piegando vi consiglio di utilizzare un uncinetto leggermente più grande o anche di provare a distanziarli un pochino quindi magari lasciate una maglia vuota in mezzo tra uno e l'altro però secondo me è già aumentando un pochino la dimensione dell'uncinetto dovreste risolvere il problema quindi vi faccio vedere l'ultimo per chiudere faccio la mia maglia alta catenella quindi lasciando largo la solita elaborazione entro nella maglia prima porto dentro il filo tiro bene 12 3 lo faccio altre due volte quindi prendo il filo e passo sotto tutti questi ok quindi iniziamo la riga successiva giriamo il lavoro ne facciamo 3 catenelle quindi andiamo a lavorare la maglia alta sopra alla maglia alta del giro precedente che vedete che qui c'è la maglia alta del giro prima passo sotto a questa maglia e lavoro una maglia alta catenella quindi vedete la maglia che c'è qua in mezzo è molto evidente ecco all'interno di quella vado a fare state che allargo un po mia solita lavorazione quindi passo dentro a questa maglia porto dentro il filo 1 ripasso dentro alla stessa maglia porto dentro il filo 2 esattamente quello che abbiamo fatto prima 3 lo faccio altre due volte per un totale come sempre di 5 prendo il filo e lo faccio passare sotto e si prosegue in questo modo maglia alta sopra alla maglia alta del giro precedente che qui è ovviamente subito dopo la nocciolina successiva no quindi posso sotto la maglia alta e lavoro quindi catenella e di nuovo prendo sul filo entro nella maglia precedente vedete questa vedete questa maglia qua si vede bene ci passo dentro quarto dentro il filo e di nuovo una seconda volta una terza volta lo faccio altre due volte prendo il filo e passo sotto tutte vado avanti un po poi ve lo faccio rivedere a fine riga ok vedete sono andata avanti questo è il disegno adesso vi faccio vedere sono alla fine vi faccio vedere come lavoro l'ultimo quindi devo fare la mia maglia alta quindi passo sempre sotto alla maglia alta del giro precedente catenella e di nuovo prendo il filo passo sotto alla maglia prima 1 1 2 sempre qua 3 lo faccio altre due volte prendo il filo passo sotto tutti e ho terminato il mio bordo in realtà potrei anche proseguire tanto si lavora sempre nello stesso modo faccio 3 catenelle giro lavoro oppure giro la volta catenelle una maglia alta nella maglia alta del giro precedente e via di seguito in questo modo quindi volendo potete anche continuare quando sarete soddisfatte del risultato che vorrete fermare io vi consiglio di lavorare una maglia bassissima così per chiudere il lavoro tagliate il filo lo passate qua in mezzo e tirate per per chiudere appunto poi il pezzo di filo che vi rimarrà lo nascondete all'interno del lavoro spero che il tutorial vi sia piaciuto se così potete mettere mi piace al video ovviamente iscrivetevi al canale così da non perdere le prossime pubblicazioni per qualsiasi dubbio non esitate a lasciarmi un commento qua sotto grazie per aver guardato il mio video e ci vediamo alla prossima ciao